Don Ciotti nel suo intervento lei ha evidenziato il fatto che il 70% delle uccisioni di mafia non hanno ancora ricevuto giustizia, la giustizia non ha consegnato ai familiari l'autore del misfatto, uno Stato che vede e non vede. Lo continuiamo a dire da tempo che c'è bisogno di verità e solo con la verità si riesce a costruire della giustizia e allora l'eredità che Paolo ci ha lasciato e con lui tanti altri che hanno speso la vita proprio per la democrazia e la libertà del nostro paese, l'eredità è questo bisogno di verità, di responsabilità e di impegno. Un paese che professa civile non è possibile, c'è solo una strage in Italia che si conosce la verità, è quella di piazza della loggia di Brescia, nelle altre strage non si conosce la verità, il 70% dei familiari li conosce o solo una parte o non conosce la verità e allora questa è l'eredità che anche questi ragazzi abbiamo bisogno di verità, solo così ci può essere giustizia. Il vento sembra essere cambiato ma gli accadimenti degli ultimi giorni, quel busto con la testa di Falcone decapitata può essere un allarme di un male che non è stato completamente estirpato, debellato, un cancro, un male metastatizzato? Beh, devo dire che quest'anno in tutta Italia è venuta la stessa cosa, certamente Giovanni Falcone allo Zen ha fatto molta risonanza ed è molto importante tutto questo, ma poco fa in provincia Agrigente a Livatino è stato oltreggiato il monumento, a Petiglia quella di Leagarofalo, a Catania, a Napoli, a Salerno, in questi mesi in tutta Italia sono stati oltreggiati. Loro sono vivi, non sono morti perché sono vivi attraverso l'impegno, la memoria vera, la responsabilità di tante persone che disturbano.